A appassionarsi ai Sacrimonti è la nuova app scaricabile da Android ed Apple, una guida audio e video studiata per accompagnare i turisti nella visita dei nuovi siti UNESCO a cavallo tra Piemonte e Lombardia. L'app sarà presentata domenica 10 aprile alla Fiera del Turismo a Milano dall'assessore al turismo e commercio della regione Piemonte, Vittoria Poggio. Un tassello che mancava per accrescere il valore attrattivo del turismo culturale e religioso, dichiara. L'app è stata realizzata dall'ente di gestione dei Sacrimonti, guidato dalla presidente Francesca Giordano con i fondi della legge 77-2006 del Ministro della Cultura. Sarà un'avventura molto coinvolgente da oggi visitare e conoscere i Sacrimonti, il commento dell'assessore alla cultura della regione Lombardia Stefano Bruno Galli, una vera e propria bussola digitale che offre itinerari alla scoperta dei più grandi artisti, da rinascimento al barocco, dal rococolle o classicismo. L'app è studiata anche per i turisti stranieri, visto che potranno scegliere la lingua da ascoltare fra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Insomma, un piccolo grande regalo alla vigilia dei vent'anni di riconoscimento UNESCO dei Sacrimonti piemontesi e lombardi.